Sonny Colbrelli è stato uno dei migliori corridori italiani degli ultimi vent'anni. La sua carriera è stata ottima ma nel 2021 è diventata straordinaria. La sua carriera è iniziata a ottenere la sorpresa dell'esercizio. Qui viene Colbrelli, Colbrelli all'esercizio! Viva Italia! Sonny Colbrelli è il vincente del Paris-Roubaix! Sono davvero contento e potrò dire che la mia ultima vittoria è stata la Paris-Roubaix. Davvero. Io mi sentivo bene, mi sentivo voglia di strafare. Parto a lungo come ho sempre fatto. Poi il problema è che a ruota mia avevo meteo. Nel senso io ero a casa tranquilla e stavo lavorecchiando al computer. Poi mi scappa l'occhio sul messaggio dove dice mi dispiace per tuo marito, spero vada tutto bene. Il nero da manca, il nero. C'è un'ottima vittoria. Grazie.